Se vuole faccia un mondo però bisogna me la mette anche io, eh? Ma come gli è successo? Signora? Cavaliero, la rivedo volentieri. E' una circostanza, diciamo così. Ma anziché è successo a un tratto oppure la sentiva male già da qualche giorno? Eh, sulla testa di ognuno di noi c'è una spada di Damople. Eh, sì, no, 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 no. non c'è più nulla da fare non c'è più nulla da fare ma ti l'anno si può andare? non ti ho detto signora non ti ho detto non ti ho detto puoi risparmiare non mi spagliare il corpo non c'è più nulla da fare è secondo me davvero? vai ci risiamo Don Dante nei biglietti, interamente dedita alla famiglia, Shossho fedele. Ma falla finita Fedeli, l'amo di marito! Shossho' diciamolo si doppiamente fedeli! E un brudale gestito! Ma io quando mi prendo, se si vogliono accomodare, mi dico una cosa, bella lo sanno assolutamente, è fin di caso di me che sono riporto, ma la zia che ha detto qualcosa, che ha spesso qualche volontà, è giusto, chi vuole essere seporta accanto al primo marito o non la preferisce? Sì, l'ho proprio messo in interessa, ma no, non so nulla per la sua nera, non la faccio. No, bubia, nel suo pallante non sei sempre per la casa, strano anzi, non ci sei ancora? Non so nulla, non so nulla, non so nulla, non so nulla, qualcosina la sospetta anche lei. Ma vede, io non ci so aspettare, quando, qualcosina la mi interessa, mi cerca da me la subito. Ah, e ha avuto la grazia, eh, gambati santo. Ora, ma non c'ho spettuto, diciamo, e ha coprenta a scuola. Che ha la fatti, mia? Ma lui lo sio, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Ma lui lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Io sono affidanzata del Menotti. E io la mamma, non ci sono. Siamo i parenti più stretti, no? No, 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 no. Eh, la vera nipote sono io, io sola. Ma questi sono sacri del suo sacri. No, no, no. diciamo, si, lo metto sull'azia. Eh, è la zia di nostra, nostra e basta. Ma che muore gliela tocchi! Ma siamo qui per lo zio. Si deve lasciar morire senza nemmeno rivederlo. Morire? Ma che so piselli! Ma perché, non c'è qualche durante un progetto? Ma, ma che storia è questa? Aspetta, aspetta, è meglio girare l'acqua. Qual è storia, Sordarella? Ma chi è il malatto, la zia o lo zio? Tutte e due, no? Tutte e due e due zio! Ma, ma a tutti, mi so parlare, tutto hai detto della zia solamente? Sì, nella zia, la zia. Ma, 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 ma non mi ha detto che non avete detto lo zio. Lo zio è stoppico. Ha pensato di dire un duro, senza che più li interessava. Ma, ma, e sono tutti e due di Sono un'infermiera. Dice di no, il dottore l'ha proibiso. Ma il pescello di preciso. O se ho merito di saperlo. L'anzia dice di riserva stava bene. Quello è un bel colpettino gocchio, eh. Ci si risposa in età avanzata. Ci si stropozza e è piaciata in bevi. Cittadino. Esepulare. Commerciante attivo e... Diciamo così. Ok, non vinci. Come non può. Povero, so chi sente. Ehi, giovane. Ha sbagliato qualcosa. Siamo fuori strada. Questa decida libera, guarda. ... 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